buongiorno a tutti benvenuti a questo webinar io sono Alessandra Cornero responsabile dell'ufficio gestione documentale di Formex PA e oggi sono qui a introdurre questo webinar dedicato alle firme attendo due minuti per far entrare i partecipanti buongiorno buongiorno a tutti voi e un webinar appunto stavo dicendo siamo qui oggi a introdurre questo webinar dedicato alle firme alla firma digitale ma non solo a quella un webinar che nasce grazie al progetto informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login la casa del cittadino in particolare la linea 3 la linea 3 denominata dati e documenti della pubblica amministrazione un seminario online che Formex PA ha organizzato a supporto di Agide con il quale termina un ciclo di webinar sui temi della gestione documentale abbiamo già parlato di firme e in occasione di webinar precedenti in particolare in quello del documento del 6 ottobre che immagino molti di voi ricorderanno saranno stati presenti un webinar sulla modalità di formazione del documento e sulle parti che lo compongono essendo la firma una componente fondamentale per la corretta formazione del documento oggi ne approfondiamo altri aspetti con i nostri relatori non anticipo nulla sul tema ma mi credo per lasciare più spazio possibile ai nostri ospiti di oggi che vado a presentare comincieremo subito con Patrizia Gentili di Agide Patrizia ha coordinato la stesura delle linee guida sulla formazione gestione e conservazione dei documenti informatici ed è responsabile per Agide del servizio documentale e modelli di marcatura e ci parlerà a seguire del contesto regolamentare in cui anche le firme digitali si collocano ci porteranno subito dopo nel mondo delle firme nel mondo più specifico delle firme Andrea Spallacci e Stefano Ianiello dell'area qualificazione e accreditamento di Agide Andrea e a seguire Stefano ci offriranno una panoramica sullo stato dell'arte delle sottoscrizioni informatiche con l'obiettivo di chiarire le differenze tra le diverse tipologie di sottoscrizione previste dalla normativa italiana e da quella europea e ci parleranno quindi delle molte diverse firme che noi umani vediamo tanto per richiamare il titolo evocativo del webinar e con le quali firme stiamo imparando sempre più tutti quanti a prendere confidenza lo faranno passando dalle firme elettroniche semplici a quelle avanzate a quelle qualificate e vedremo con loro anche i principi di funzionamento le caratteristiche del certificato di firma i formati il processo di verifica insomma assisteremo a un dettagliato panorama di quello che a prima vista può apparire uno strumento semplice ma che in realtà ha una sua diciamo così variegata complessità. Siete tanti e immagino che il tema e gli interventi dei nostri relatori susciteranno molte domande interessanti proprio perché siete tanti e le domande saranno come spesso capita molte vi invitiamo vi invito cortesemente a porre più possibile domande inerenti l'argomento specifico scrivetele come di consueto nella chat alla fine del seminario ci sarà uno spazio dedicato alle risposte da parte dei relatori e come sempre slide registrazione dell'evento saranno disponibili alla fine dell'evento. Ho finito le comunicazioni di servizio do quindi il benvenuto e la parola a Patrizia Gentili di Agit che invito ad attivare la webcam e a collegarsi. Buongiorno Patrizia ti lascio la parola, puoi attivare il microfono e webcam. Ci sei Patrizia? Patrizia non ti sentiamo? si adesso ti sentiamo. Buongiorno Patrizia ti lascio la parola, disattivo la webcam. Buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti, ho visto che siete veramente tantissimi quindi immagino che saremo subissati di domande. Vado velocemente quindi sulla queste poche slide che abbiamo preparato giusto per introdurre l'argomento. Come ha detto Alessandra appunto questo webinar è l'ultimo di questo ciclo che abbiamo organizzato in collaborazione appunto tra Formez e Agenzia per dare diciamo una panoramica al più possibile concreta su quella che è il mondo appunto del documento informatico. Questo è appunto l'ultimo e l'idea è quella di puntare l'attenzione su quello che poi è il mondo della firma digitale che naturalmente è strettamente corredata correlata al documento informatico senza il quale appunto senza la quale non potremmo avere un documento valido ai fini ehm ai fini legali. Quindi è un momento di condivisione un momento per far emergere tutte le le i dubbi per avere appunto degli spunti di riflessione anche nell'applicazione pratica. Quindi questo è appunto i due webinar che ci hanno preceduto e eh prima del punto di di oggi ehm e eh quello che ehm ehm deve essere chiaro è qual è il ruolo dell'agenzia nei confronti delle linee guida. Perché parliamo di linee guida? Perché siamo noi a parlarne di linee guida? Perché il codice dell'amministrazione digitale all'articolo settantuno ha dato questo compito regolamentatorio ehm nell'ambito di tutto quello che riguarda dall'applicazione del CAD eh e ehm con eh un percorso ehm particolarmente articolato ma precisato eh nel dettaglio che porta l'agenzia ad adottare le linee guida che contengono le regole tecniche di indirizzo per l'attuazione appunto del codice. Eh questo eh percorso prevede una condivisione con il garante eh della protezione dei dati personali con le amministrazioni competenti e eh con il ehm con l'acquisizione del parere della conferenza unificata Stato-Regione. Eh il testo poi delle linee guida così approvato viene mandato eh alla Commissione europea per la condivisione eh con la Commissione e mh e dopo viene pubblicato sul sito eh istituzionale dell'agenzia. Eh il eh contesto normativo da cui si parte per eh parlare di documento eh digitale è quello che parte dal lontano duemila con il DPR quattro quattro cinque col testo unico sulle disposizioni eh riguardanti eh il la documentazione amministrativa. Poi ovviamente abbiamo il codice dell'amministrazione digitale e i tre decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che tra il duemila tredici e duemila quattordici hanno regolamentato in maniera separata protocollo informatico conservazione e documento. A questo si aggiungono le due circolari pre eh emanate dall'agenzia per l'Italia digitale una eh la numero sessanta sul formato dei dati eh che vengono scambiati tra eh eh pubbliche amministrazioni tramite protocollo e eh la circolare sessantacinque per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti che eh dovevano svolgere attività di conservazione per la pubblica amministrazione. Questa nuova forma di fonte eh normativa ossia le linee guida avevano lo scopo eh trovano diciamo eh fondamento in un'idea di deregolamentare ossia eh capendo che le fondi le fonti tradizionali non sono idonee a disciplinare una materia tecnica così eh eh sottoposta a evoluzione continua come appunto la digitalizzazione. E in questa maniera abbiamo eh un eh concetto di destrutturazione dell'ambito oggettivo cioè il sistema delle fonti diventa più flessibile per dare appunto questa copertura a a questi eh ambiti che sono fortemente tecnici. E eh poi eh di di conseguenza c'è una destrutturazione dell'ambito soggettivo cioè viene eh concesso l'ingresso di nuovi produttori di norme eh che sono vincolanti ma che sono sganciati questi produttori dalla responsabilità politica quindi appunto un'agenzia tecnica come eh eh come Agid. E il Consiglio di Stato eh su eh richiesta eh esplicita ha precisato che le linee guida sono strumenti di regolazione, sono flessibili e hanno una valenza erga omnes e in eh in casi specifici carattere di vincolatività. Eh sono assimilabili agli atti di regolazione delle altre autorità amministrative indipendenti per esempio come le linee guida di ANAC. Ovviamente a seconda della eh fatti specie che viene regolata abbiamo eh una efficacia modulata quindi abbiamo linee guida che contengono regole tecniche quindi con un forte contenuto normativo e linee guida che sono invece di indirizzo e che l'amministrazione potrebbe anche non osservare ovviamente dando una giustificazione eh eh sulla eh sul perché si devia appunto eh da questo eh dagli indirizzi. Quindi avendo delle linee guida vincolanti perché eh eh hanno delle eh hanno un contenuto prevalente eh di regola tecnica e linee guida non vincolanti dove invece prevalgono delle regole generali che sono eh indirizzate appunto eh alle amministrazioni e quindi danno essenzialmente delle indicazioni e operative. All'interno delle linee guida vincolanti dobbiamo eh trovare eh possiamo trovare linee guida con idea di semplificare, riordinare una normativa ehm esistente eh linee guida che vogliono attuare delle disposizioni del CAD e altre eh o altre normative che non hanno ehm una disciplina tecnica preesistente. Nelle linee guida non vincolanti troviamo essenzialmente delle raccomandazioni o delle manuali operative. Le linee guida sul documento informatico hanno una natura mista perché hanno una finalità di semplificazione e riordino della normativa esistente eh vogliono attuare disposizioni del CAD per esempio in materia di conservazione o di certificazione di processo e delle norme che non sono vincolanti nei confronti dei soggetti privati per esempio quando parliamo di segnatura di protocollo. Bene io con questo ho finito spero di essere rimasta nei tempi eh per dare questa breve eh eh diciamo eh inquadramento eh della della situazione che sta normativa che sta a monte delle eh delle delle. Grazie Patrizia sì sei stata perfettamente nei tempi e dato un'inquadratura eh complessiva del contesto regolamentare. Ti ringrazio molto. Adesso eh tra norme e prassi invito Andrea con le Andrea a collegarsi con la webcam e eh ci porterà Andrea ci introdurrà al magico mondo delle firme. Vai Andrea. Spero mi vediate e mi sentiate bene. Sì perfetto. Perfettamente Andrea. Ottimo. Ecco quindi iniziamo questo viaggio nel mondo delle firme non proprio magico però ecco interessante almeno. Allora ehm oggi in questa brevissima presentazione appunto eh andremo a vedere un quadro della normativa nazionale ed europea sulle firme elettroniche ehm andremo a vedere quali tipologie di firme sono eh definite appunto in Europa e eh nel contesto nazionale che sono leggermente diverse ehm lasceremo poi eh spazio a a dei casi pratici di cui si occuperà il collega Stefano Iagnello con una presentazione subito dopo di me. Allora eh in Europa eh riguarda le firme vigi regolamento IAIDAS e regolamento numero eh 910 del 2014 eh in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e ha l'obiettivo di fornire una base normativa nell'Unione Europea per i servizi fiduciari e per i mezzi di identificazione elettronica eh degli Stati membri appunto al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno. Eh piccola nota i mezzi di identificazione elettronica sono per esempio Speed o Cie ma sono fuori da questo eh dal tema di oggi e quindi con l'obiettivo di rafforzare la fiducia nelle transazioni eh nell'Unione Europea. Il regolamento è stato emanato il 23 luglio 2014 e ha piena efficacia dal primo luglio del 2016 e in particolare il regolamento fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche eh stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari in particolare per le transazioni elettroniche e istituisce ed è questa la cosa che più ci interessa quest'oggi istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche che noi chiamiamo marche temporali, i documenti elettronici, i servizi elettronici di ricapito certificato ovvero per esempio la PEC o eh il servizio che prenderà il suo posto e i certificati di autenticazione siti web che sono quei certificati che fanno comparire il lucchetto verde nel nostro amato browser quando navighiamo sui siti sicuri. eh qual è il rapporto tra la normativa europea e quella nazionale? Il ehm il regolamento eh al considerando quarantanove come potete leggere eh cosa stabilisce? Stabilisce che il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale la firma elettronica non non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua firma elettronica ovvero il principio di non discriminazione o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Qui ci torneremo a breve perché appunto noi vedremo che nel regolamento AIDAS c'è sempre eh il famoso two tires approach, c'è una distinzione tra servizi qualificati e non qualificati. Eh tuttavia sempre il considerando quarantanove dice che spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche fatto salvo per i requisiti presenti eh previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa e questo appunto è sancito sia poi dagli articoli seguenti del del regolamento AIDAS ma anche dalla dalla normativa italiana. eh proseguendo ehm in Italia la la normativa principale sulle firme elettroniche eh il già il richiamato codice dell'amministrazione digitale eh già anticipato dalla collega Patrizia Gentili ovvero il decreto legislativo 82 del 2005 e anche in questo caso vediamo che c'è un rapporto tra la normativa AIDAS e quella nazionale nel nel 2016 nell'agosto del 2016 con il decreto legislativo 179 è stato inserito il comma 1bis all'articolo 1 eh in cui si dice appunto ai fini del presente codice valgono le definizioni di cui è l'articolo 3 del regolamento AIDAS. In pratica sono state rimosse diverse definizioni tra cui quella di firma elettronica ehm ehm sono state rimandate appunto a quelle del regolamento AIDAS per uniformare il tutto. Eh un minuto mi sono... ok. Allora eh quali sono le firme elettroniche in AIDAS? Ci sono eh tre tipi di firme elettroniche. La firma elettronica cosiddetta in modo colloquiale semplice, la firma elettronica avanzata e la firma elettronica qualificata. La differenza tra i tre tipi di firma è principalmente il livello di sicurezza di ciascun tipo e la complessità del sistema di verifica dell'identità del firmatario che ciascuno di essi utilizza. Eh la forza della firma risiede quindi nel grado di fiducia che fornisce circa l'identificazione del firmatario e nella prova che eh il documento sia effettivamente quello firmato. Eh la firma elettronica semplice ecco qui vediamo una definizione di AIDAS che cos'è? Sono dei dati in forma elettronica acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici utilizzati dal firmatario per firmare. In generale è considerata debole ad una valenza probatoria valutabile dal giudice. Dicevo firma elettronica semplice è un nome diciamo colloquiale che raggruppa tutte le firme elettroniche che non sono avanzate o qualificate. Non è un termine semplice che troviamo che troviamo in AIDAS anche se poi utilizzato eh dalla maggior parte eh per esempio dei provider di di firme digitali che eh forniscono anche questo tipo di servizio. Eh non esiste dunque un elenco stabilito di requisiti per questo eh tipo di firma quindi si potrà per esempio in soli due clic senza alcun processo concreto di verifica dell'identità o il consenso far firmare un documento. In questo caso caso di firma elettronica semplice sarebbe molto facile per il firmatario negare di aver firmato questo qui è un aspetto molto importante ci ritorneremo pure dopo quando parleremo della firma elettronica avanzata ma soprattutto della firma digitale. Quindi appunto secondo questa definizione per esempio una firma eh scansionata eh come quelle che una firma scansionata oppure una firma di quelle che apponiamo per esempio sul terminale del fattorino che ci porta i pacchi sono considerate eh firme semplici. Come vediamo ehm emerge qui già il principio di eh neutralità tecnologica che ehm è presente in tutto il regolamento AIDAS. Vediamo infatti che la definizione di firma elettronica non fa riferimento ad alcuna precisa tecnologia eh descrive appunto eh una descrizione agnostica da qualsiasi tecnologia eh ritorneremo su questo aspetto dopo. Eh i firmi eh i tipi di firma elettronica eh possono essere come ho detto prima descrivibili in base al metodo utilizzato alla finalità e alla proprietà della firma. Infatti possono essere utilizzati in metodi diversi tra loro per apporre una firma elettronica semplice per esempio dei codici di identificazione personale o delle tecniche biometriche. Eh ho sbagliato scusate ehm per esempio esistono molti eh tipi di firma appunto e sono eh descrivibili in base ai metodi per esempio di autenticazione utilizzati dal firmatario che magari come potrete sapere eh sono classificati generalmente in tre categorie a seconda che il meccanismo di autenticazione si basi sulle conoscenze del firmatario quindi something you know piuttosto che sulle sue caratteristiche fisiche something you are o sul possesso di un oggetto something you are quindi per esempio il possesso di una smart card. Ancora ricordiamoci il principio di neutralità tecnologica non sono previste per la firma elettronica semplice eh caratteristiche tecniche particolari o un particolare livello di sicurezza eh quindi ripeto anche per esempio l'utilizzo di una password, un'impronta biometrica può essere considerata come una firma semplice. eh andiamo a vedere la firma elettronica avanzata. La firma elettronica avanzata è il secondo, la seconda tipologia di firma presente nel regolamento EIDAS e deve soddisfare dei criteri di verifica dell'identità più rigorosi e quindi a un livello di sicurezza più elevato anche come stabilito appunto dal regolamento EIDAS. Andiamo a vedere la definizione eh ehm dell'articolo 26 cioè la definizione appunto una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui ha l'articolo 26 ovvero è connessa unicamente al firmatario, è idonea a identificare al firmatario, è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può con un elevato livello di sicurezza utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo ed è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. Il quadro normativo sulla firma elettronica avanzata europea è completato poi eh dall'ordinamento giuridico italiano eh quest'ultimo definisce che una soluzione di firma elettronica avanzata è pienamente conforme se segue le disposizioni delle regole tecniche in materia di FEA che le troviamo eh nel DPCM nel titolo quinto quindi gli articoli dal 55 al 61 del DPCM del 22 febbraio 2013 che eh appunto sancisce le regole tecniche in maniera di eh in materia di generazione a posizione e verifica delle firme elettroniche avanzate qualificate e digitali. ehm come abbiamo visto eh la la norma che definisce una FEA ancora una volta è tecnologicamente neutra rileva soltanto il soddisfacimento eh di una serie di condizioni a prescindere da quali siano le modalità usate per garantirle. La la definizione descrive un processo benché eh anziché un prodotto e perché quindi di FEA si tratti devono essere soddisfatti non solo dei requisiti di natura tecnologica ma anche eh di natura organizzativa quindi dalla per esempio dalla identificazione del firmatario che abbiamo detto deve soddisfare dei rigorosi eh criteri alla conservazione del documento firmato. Eh in questa slide ehm voglio portare alla vostra attenzione quello che oggi può essere considerato un punto di criticità della firma elettronica avanzata in Italia che è rappresentato dall'articolo 60 del DPCM che appunto rientra fra eh gli articoli del titolo quinto che regola le firme elettroniche avanzate e appunto i limiti d'uso eh disciplina in particolare l'articolo 60 i limiti d'uso della firma elettronica avanzata la firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle presenti regole tecniche è utilizzata limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto di cui all'articolo 55,2 lettera A. Che cosa significa questo? Significa che a differenza delle firme elettroniche digitali per cui io che voglio sottoscrivere mi ehm ehm mi compro una firma un token piuttosto che una firma remota vediamo dopo e posso utilizzare quella firma nei confronti di chiunque quest'articolo pone dei limiti sull'ambito di utilizzo andando a chiudere l'ambito di utilizzo e quindi una FEA può essere utilizzata soltanto in contesti chiusi dove eh ci sono dei soggetti che eh vogliono intraprendere un rapporto contrattuale con me che devo firmare e quella soluzione di FEA può essere utilizzata soltanto in quell'ambito ristretto. ora eh questa qui è una criticità eh eh sappia è una delle tante del DPCM che appunto è stato emanato nel 2013 e necessita di essere aggiornato quanto prima e ne siamo consapevoli insomma vedremo come come evolverà questa questa situazione. Eh andiamo in questa slide a vedere la firma grafometrica che eh sostanzialmente è una firma elettronica avanzata è una firma è forse la firma elettronica avanzata più famosa che conosciamo è un processo di firma che prevede la posizione della firmatografa del cliente su un apposito tablet con una specifica penna mediante il quale è possibile collegare al documento elettronico un insieme di dati biometrici che garantiscono la connessione univoca tra documento firmato e firmatario. I dati biometrici vengono rilevati per mezzo di una penna appunto elettronica su una tavoletta digitale sono per esempio il ritmo, la velocità, la pressione, l'accelerazione e il movimento. Eh appunto eh come dicevo le soluzioni di eh di firma grafometrica se andiamo a vedere quali sono le tecnologie, i processi dietro sono sostanzialmente oggi quelle presenti in Italia paragonabili ad una firma elettronica avanzata e e per questo appunto richiedono una serie, prevedono queste soluzioni di FEA che vediamo oggi eh diversi passaggi essenziali per garantire l'autenticità del dato e la tutela del firmatario. Infatti eh spesso ci sia troviamo questi strumenti eh di firma grafometrica per esempio in ambito bancario dove è necessario eh lo vediamo spesso che il firmatario sia identificato in un modo certo tramite l'esibizione di un valido documento di riconoscimento. Vado un po' veloce perché sto andando eh lungo con i tempi. Andiamo a vedere qual è la firma eh più forte in Europa, la firma elettronica qualificata. Eh se andiamo a vedere la definizione eh del regolamento EIDAS che cosa ci dice? Che è una firma elettronica avanzata in più eh quali sono i requisiti? È creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata quindi c'è un dispositivo che ha determinate caratteristiche ed è basata su un certificato qualificato per le firme elettroniche. Eh se andiamo a vedere la definizione di certificato elettronico vediamo che eh l'associazione al firmatario avviene tramite appunto un certificato elettronico qualificato e questo ehm rende la definizione di firma non tecnologicamente neutra quindi eh diciamo una un'eccezione rispetto a al al alla neutralità tecnologica presente nel resto del regolamento EIDAS. Lascio al collega di firma elettronica poi Agnello andare in in profondi in dettaglio sugli aspetti delle firme elettroniche qualificate. Eh ehm scusa. Ok. Allora ehm anche qui sarò brevissimo poi il collega Stefano eh andrà in profondità. La decisione di esecuzione eh europea 15.06 il 2015 individua eh diversi formati di firma e sigilli a cui tutti eh gli stati membri devono garantire verificabilità e leggibilità sono il CADES, il PADES e l'OXADES. Il CADES ehm nel caso di firma appunto digitale apposta con modalità CADES il documento firmato e il file con la firma digitale vengono inseriti insieme in una busta. Eh tale busta appunto contiene il documento e il file della firma e avrà un'estensione P7M. Ehm quindi tutti i file firmati con tale modalità perderanno diciamo la loro estensione originale e andrà avranno una seconda, verrà aggiunta una seconda estensione al file che è l'estensione P7M per la quale eh lettura è necessario un apposito software. La firma PADES è la firma PDF eh ha delle peculiarità per esempio consente eh la posizione grafica della firma in più punti questo qui poi lo farà vedere il collega Iagnello sarà utile per esempio nel nel caso in cui siano presenti delle clausole vessatorie sul documento eh ma consente di firmare soltanto i file di tipo PDF. Il formato XADES formato di firma XML non siamo abituati a vederlo eh tanto ma diciamo è un file utilizzato soprattutto nei processi automatici. Ehm andiamo a vedere ora le firme elettroniche italiane eh sarò poi anche qui sto leggermente sforando eh due considerazioni. Allora ehm sulla firma digitale. Che cos'è la firma digitale? È un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi criptografiche una pubblica e una privata correlate tra loro che consente al titolare tramite la propria chiave privata e al destinatario della chiave pubblica di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico di un insieme di documenti informatici. Quindi anche in questo caso siamo di fronte ad una firma tecnologicamente non neutra dato che viene eh scelta una particolare tecnologia che è quella della criptografia a chiave simmetriche dove appunto il il firmatario ha una chiave privata la chiave pubblica collegata alla chiave privata e disponibile a tutti ed è inserita anche nel certificato. E il regolamento EIDAS non disciplina esplicitamente questa eh tipologia di firma ma disciplina la firma elettronica qualificata nel cui ambito la firma digitale deve essere iscritta perché sostanzialmente poi nei fatti eh sono identiche. Eh altri tipi di firme elettroniche italiane per esempio c'è la firma remota eh disciplinata dal DPCM 22 febbraio 2013 che è una particolare procedura di firma elettronica qualificata o di firma digitale generata su HSM che consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse. è ricondotta la firma digitale la sua peculiarità sta nel fatto che viene generata a distanza attraverso un certificato di firma digitale che risiede in un server sicuro del certificatore chiamato HSM Hardware Security Module e appunto è usata attraverso un HSM e un dispositivo OTP un one time password per generare un secondo fattore di autenticazione. In pratica la firma viene generata da remoto e può essere apposta indipendentemente dal luogo in cui si trova l'HSM. Qual è appunto l'occorrente per usare per esempio una firma per apporre una firma remota? Firma remota che è una delle preferite dagli utenti italiani, l'80% dei certificati di firma qualificata sono di questa tipologia in Italia, ne abbiamo un numero veramente consistente che tanti altri stati ci invidiano. Quindi qual è l'occorrente per generare una firma remota? Una connessione internet sicuramente perché il documento che devo firmare, l'hash del documento che devo firmare deve viaggiare verso il software del certificatore e quindi abbiamo bisogno di una connessione internet, di un software per la firma e di una OTP, una one time password che può essere generata da un token oppure come vediamo spesso oggi da un'app su cellulare. Quindi appunto quali sono i vantaggi? Nessun vincolo di utilizzo di un hardware dedicato né tantomeno di un sistema operativo predefinito. Un'altra tipologia della penultima delle firme elettroniche avanzate è la firma automatica, anch'essa discriminata dal solito IPCM, è una particolare procedura informatica di firma elettronica qualificata o firma digitale eseguita previa autorizzazione del sottoscrittore che mantiene il controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in assenza, questo è importante, di presidio puntuale e continuo da parte di questo. Come si può leggere ancora è da ricondurre quindi alle firme digitali, consente analogamente alla firma remota di utilizzare una chiave privata che non è fisicamente nelle mani del sottoscrittore ma risiede in un server sicuro che viene raggiunto tramite una connessione elettronica protetta. Questa tipologia di firma, come appunto chiamando la definizione, permette al firmatario la sottoscrizione massiva di più documenti informatici. Vedo Alessandra, il video forse sono veramente molto ritardo. Finisci magari a fretta di un pochino se riesci. Sì, certo. Ultima tipologia di firma elettronica presente solo e soltanto in Italia è quella prevista anche dall'articolo 20 del codice dell'amministrazione digitale, la chiamiamo firma con Speed, firma ex articolo 20, non particolarmente diffusa, Agit ha emanato qualche anno fa le linee guida per la sottoscrizione tramite Speed, una procedura un po' mi rendo conto difficile da utilizzare, oggi disponibile soltanto presso un unico gestore di identità Speed che è l'Epida, non ha una grandissima diffusione, io quindi non andrei in dettaglio su questa tipologia di firma. semplicemente per dirvi che esiste. Un aspetto importante è il valore delle firme elettroniche qualificate digitali nel tempo. L'articolo 62 del soglio di PCM ci dice che le firme elettroniche digitali, ancorché sia scaduto, revocato, sospeso o relativo certificato, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione delle firme qualificate in un momento precedente alla scadenza, la regola e la sospensione. I riferimenti temporali opponibili ai terzi sono la marcatura temporale qualificata, per esempio la segnatura di protocollo o l'invio del documento firmato tramite PEC. Quali sono gli effetti giuridici delle firme elettroniche? Come dicevo nell'Unione Europea c'è una differenza tra firme elettroniche qualificate e le altre tipologie di firma. Per tutte le firme vige il principio di non discriminazione per la forma elettronica, per la firma elettronica qualificata è previsto il principio per cui ha gli stessi effetti giuridici di una firma autografa. Mentre per quanto riguarda la normativa italiana, vediamo che per esempio la firma elettronica avanzata ha la valenza dell'articolo 2702 del Codice Civile, così come la firma elettronica qualificata per il quale però è previsto l'inversione dell'onere della prova e questo qui è un elemento molto importante e che ha soltanto la firma elettronica qualificata o firma digitale. Quindi andiamo a vedere velocissimamente dei casi di utilizzo delle firme elettroniche, andiamo a vedere la firma elettronica semplice, ragione delle caratteristiche delle firme, possiamo fare qualche caso ad esempio, la firma elettronica semplice svolge principalmente la funzione identificativa e dichiarativa, non quella probatoria, quindi può essere idonea per esempio per firmare contratti non formali, per l'acquisizione del consenso al trattamento dati, per i rinviro identivi o le lettere di incarico. Sicuramente non è utilizzabile la norma di legge per i contratti aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali su beni immobili o per gli altri casi per i quali la forma scritta è richiesta per legge. Per quanto riguarda la firma elettronica avanzata, è idonea per gli atti di cui al punto 13 dell'articolo 1350 del codice civile, per esempio i contratti bancari e per i contratti assicurativi, ha un più alto spettro di utilizzo quindi rispetto alla firma elettronica semplice, ancora non è utilizzabile per i contratti aventi ad oggetto beni immobili e diritti reali sui beni immobili. Andiamo alla firma elettronica qualificata o firma elettronica digitale, esse sono idonee per la sottoscrizione di qualsiasi contratto, anche quelle aventi ad oggetto beni immobili, così appunto come è previsto dall'articolo 21,2 bis del CAD. Inoltre, sottolineo che appunto il CAD all'articolo 24, qui non l'ho riportato, prevede che la posizione di firma digitale integra e sostituisce la posizione di sigilli, punzioni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Sì, che sta in attesa, Stefano collegati per cortesia, fincia subito, io mi disconnetto immediatamente per recuperare sul tempo. Sì, buongiorno a tutti quanti, non vedo ancora le slide, grazie per presentare Sandra. La mia presentazione sarà un po' più tecnica, meno normativa, andrò un po' nell'ambito della firma digitale. Intanto vorrei chiarire una cosa, la firma digitale, come qua ho riportato una slide, è un risultato di una procedura informatica, questa è fondamentale, la procedura informatica, garantisce l'autenticità, l'intelità dei messaggi, documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, a partire da quanto svolto dalla firma autografo per documenti tradizionali. Questo ci fa capire fondamentalmente che l'obiettivo della firma digitale era quello di trasformare, trasferire documenti in digitali con lo stesso concetto della firma autografo su carta. La firma digitale riesce a garantire tre requisiti, autenticità, perciò fondamentalmente come un documento firma digitalmente che può essere certi, si può essere certi dell'identità del sottoscrittore, questo lo vediamo anche dopo, l'integrità che dopo la sottoscrizione del documento non è stato modificato e fondamentalmente il non repudio, il documento informatico sostituisce sottoscritto con firma digitale a piena valore legale e non può essere ripetuto da sottoscrittore. Qua ho cercato di far capire un pochettino il discorso che spesso e volentieri noi in Italia parliamo di firma digitale, ma firma elettronica qualificata, come diceva anche il collega Spallacci, C, sostanzialmente è la stessa cosa, anzi è la stessa cosa, è un sinonimo e questo viene definito sia dalla definizione dell'articolo 1 che abbiamo visto prima con il collega Andrea lettera S del CAD dove definisce la firma digitale, un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi digitografiche, una pubblica, una privata e poi c'è anche il regolamento EDAS, il regolamento EDAS che definisce la firma elettronica qualificata come una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo di overreazione di una firma elettronica qualificata, ma fondamentalmente la cosa interessante è anche l'articolo 25 che definisce il punto 2 che è una firma elettronica qualificata, ha effetti giuridici a quella di una firma autografa, cioè fondamentalmente firma digitale o firma elettronica qualificata lo possiamo dire sia in un modo che in un altro in Italia, spesso noi ovviamente usiamo firma digitale però sarebbe la stessa cosa utilizzare firma elettronica qualificata. Il regolamento EDAS ha introdotto anche una cosa interessantissima, qua il regolamento EDAS assume particolarmente in rilevanza la piena interopabilità a livello comunitario di particolari tipologie di firma, cioè firma elettronica qualificata ma anche di marche temporali, infatti l'articolo 25,3 del regolamento dice una firma elettronica qualificata basata ad un certificato qualificato, rilasciato a uno Stato membro e riconosciuto quale firma elettronica qualificata in tutti gli Stati membri, cioè ne deriva che l'obbligo di riconoscere una firma elettronica qualificata, firma digitale, introdotto dal regolamento EDAS deve essere onorato, altrimenti oltre a non consentire l'esercizio di un diritto al cittadino dell'Unione si incorre in una procedura di infrazione. A tal fine il regolamento EDAS ha introdotto all'articolo 22 gli elenchi di fiducia, infatti scrive nel regolamento l'articolo 2, definisce che tutti gli Stati membri istituiscono, mantengono al pubblico elenchi di fiducia che includono le informazioni relativi ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per i quali sono responsabili, ovviamente informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati, servizi fiduciari qualificati parliamo ovviamente di marche temporali, firme elettroniche qualificate e via dicendo, sigilli e così via dicendo. In altre parole un fornitore di un servizio sarà qualificato solo se compare negli elenchi di fiducia. Basterebbe anche oltre, cioè fondamentalmente la cosa basilare qua diciamo che ci sono di conseguenza ovviamente i cittadini beneficiando dell'effetto giuridico associato a un determinato servizio fisico qualificato solo se presente nell'elenco. La cosa interessante è che la Commissione Europea per agevolare anche la lettura e la lettura e poi anche l'acquisizione automatica di questi elenchi di fiducia ha pubblicato un elenco, List of Trust List, che è il TL Browser per l'accesso, direttamente l'accesso del cittadino che permette proprio di andare a vedere se un determinato prestatore di servizio fiduciario è qualificato e quale servizio presta quel determinato prestatore di servizio fiduciario qualificato. Questa lista è disponibile in formato XML adatto all'elaborazione automatico. Questo formato ovviamente premetto che la lista di fiducia degli stati membri vengono firmati dagli vari stati membri. Però questa lista, questo elenco scusate, questo elenco delle liste viene firmato e sigillato, scusate, firmato e siglato direttamente dalla Commissione Europea. Questo è un estratto per far vedere come è formato insomma l'elenco di vari paesi. Questi sono i servizi fiduciari, questi servizi poi che sono prestati dalle varie società che sono state qualificate dall'organismo di vigilanza, che per l'Italia è l'agito. Allora, io qua sono partito un po' dalla base, il principio del funzionamento della firma elettronica qualificata offre una firma digitale. Per la creazione di una firma elettronica qualificata è necessario utilizzare un dispositivo di firma, smart card token, in cui è costruito una coppia di chiavi criptografiche. La prima chiave, la chiave privata, destinata ad essere costruita solo dal titolare, è utilizzata per generare, per la generazione della firma digitale. La seconda, la chiave pubblica, viene utilizzata per la verifica dell'autenticità della firma stessa. Il caratteristico di tale metodo, detto crittografico a chiave asimmetrica, è che una volta che il documento è stato firmato con la chiave privata, quella firma può essere verificata con successo esclusivamente con la corrispondenza della chiave pubblica. La sicurezza è garantita dalla impossibilità di ricostruire la chiave privata a partire da quella pubblica, anche se le due sono collegate da di loro. La firma digitale viene rilasciata fondamentalmente a seguito dell'identificazione certa del richiedente, del viso o audio-video. Ci sono varie modalità che Agit poi approva vari certificatori qualificati, ma anche gli altri organismi di vigilanza che fanno lo stesso in Europa. Ovviamente a seguito dell'identificazione, la certification authority, cioè il QTSP, in questione genererà una coppia di chiave pubblica e private sulla smartcard, lasciando ovviamente il certificato, installando sopra il certificato della smartcard. A questo punto diciamo che viene consegnato il certificato di dispositivo sicuro all'utente. Il dispositivo sicuro fondamentalmente per la firma sono dispositivi QSCD, certificati come criterio con livelli 4+, eventualmente, che garantiscono unicità e inesportabilità della chiave privata. All'interno del dispositivo ovviamente dello smartcard ci sarà la chiave privata e il certificato stesso. La chiave privata e il certificato è quella che è custodita a disposizione. Ok, legge matematica, quello abbiamo prima ovviamente. La chiave pubblica e i dati alla grafica del certificato sono garantiti dalla firma digitale della CIA, questo è molto importante, cioè la firma digitale del certification authority. Le caratteristiche del certificato. Un certificato qualificato è uno strumento che permette di distribuire pubblicamente le chiave pubbliche rendendole note agli utenti finali, con garanzia di autenticità e integrità. All'interno del certificato qualificato troviamo gli elementi che identificano sia il certificatore che ha rilasciato il certificato, sia il titolare del certificato, la durata del certificato stesso, la chiave pubblica del titolare e la firma digitale dell'ente certificatore, come dicevamo prima. All'interno troviamo anche fondamentalmente elementi che ci possono garantire lo stato del certificato, perché il certificato può essere anche sospeso o revocato. Nella fattispecie ovviamente ci saranno obbligatori, perché l'agio della resi obbligatori da parte dei CA, il servizio di OCSP ed eventualmente la lista di revoca, che normalmente viene aggiornata ogni 12 ore. Però il servizio OCSP è sempre online, perché è un servizio telematico e direttamente accessibile, perciò è facilmente riscontrabile, l'eventuale revoca o sospensione di un certificato. Questa è una slide che ci fa capire come viene generato un documento firmato. L'esempio l'abbiamo preso con un PKCS7, che sarebbe fondamentalmente un P7M, un CAD, un CADES, un P7M. La generazione di un documento avviene semplicemente calcolando l'impronta del documento stesso. Aggiungendoci ovviamente il dispositivo sicuro, cioè il certificato stesso e l'impronta di firma, tutti questi tre elementi andranno a comporre un unico documento che all'interno contiene sia il documento, cioè l'impronta del documento, sia l'impronta di firma, sia il certificato. Il documento firmato digitalmente è un documento, qua ricapitoliamo, è un unico file prodotto dal software di firma che è costituito da quattro componenti principali. Il documento originale, che sarebbe questo qui, il file, la firma, ovvero l'impronta firmata del sottoscrittore e il certificato, tutto in un involucro completo. Per fare la verifica del documento, ovviamente, il processo di verifica andrà nel senso opposto, ovviamente, andremo a caricarci il documento da controllare, da verificare, il software di verifica, perché nel caso del CADE ci sarà un software di verifica, andrà a effettuare la scomposizione del documento, così composto, nel documento stesso, calcolandoci poi l'esce del documento qui, l'impronta firmata e il certificato. Il documento andremo a calcolare l'impronta fresca del documento, quella che è presente, andremo a decodificare l'impronta firmata e se le due cose corrispondono, la firma è valida, altrimenti non è valida, la firma non è valida. Ovviamente, anche l'integrità del documento può essere compromessa, accidentalmente o intenzionalmente, nel caso specifico, se succedesse una cosa del genere, ovviamente, questa verifica che abbiamo fatto prima del documento andrà a riscontrare che c'è stata una modifica dell'impronta del documento, fresca del documento, perciò la firma non sarà valida. La garanzia di autenticità fondamentalmente viene fuori dall'impronta di firma, che è nel certificato stesso, cioè solo il certificato, la chiave privata associata al certificato usato per la verifica, può avere generato l'impronta di firma. Una volta decodificata, corrisponde esattamente all'impronta calcolata ex novo, che sarebbe questa qui. Per quanto riguarda la firma, se la firma del certificato è valida, allo stesso è stato emesso a fronte di identificazione certa del titolare, quello che dicevamo prima del momento in cui viene rilasciato il certificato stesso, che si trova su un dispositivo sicuro, un QSCD, con cui è stata apposta la firma digitale. Questo è un po' un recap della situazione, in qualche modo. Entrando nello specifico i formati di firma, come diceva il collega Andrea Spallacci, i formati di firma, la decisione di esenzione 1506 stabilisce fondamentalmente che le pubbliche amministrazioni devono riconoscere tre formati di firma. I formati di firma sono il CADES, il PADES e il XADES, come diceva, qua ci sono un po' gli EZI derivati, questi sono gli EZI, che sono presenti direttamente sulla 1506, questi sono quelli derivati ovviamente che poi bisogna andare a vedere per capire bene il tipo di formato di firma e lo standard di firma. Il formato CADES è P7M, la busta CADES è un file con estensione P7M, come dicevamo prima, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso delle applicative, dei software di verifica di firma, di apposizione di firma, che sono in grado di sbustare il documento sottoscritto. Tale formato permette di firmare qualsiasi tipo di file, ma come dicevamo poco anzi, ha lo svantaggio di dover essere sempre utilizzato, per poter visualizzare il documento bisogna utilizzare un software di verifica. il formato consente di apporre tutte le tipologie di firme, firma singola, firma parallela congiunta, controfirma, e la firma matrioska, che è una firma con cui è possibile filmare l'intera busta criptografia, il P7M, perciò verrebbe fuori un P7M più punto P7M, uno dentro l'altro. E' una matrioska a tutti gli effetti. Qua ho fatto un piccolo analisi come era la firma. la firma Cades permette anche di apporre più firme, firme multiple. Può essere apposta in due modi, reimbustando, questa è la firma matrioska, in un'unica busta Cades, la busta generata da sottoscrizione precedente, come si vede nella firma foglio 1, oppure aggiungendo nella busta ulteriore firme, accompagnate dai relativi certificati, con questa firma 2, l'immagine 2 fondamentalmente. Andando poi avanti nella firma Pades, la firma Pades, il formato Pades è un file con estensione P7M, che è leggibile con tutti i redditori disponibili per questo formato, questo tipo di firma, per la sua natura per la natura stessa del formato consente di apporre solo firme di tipo ovviamente involved. Pades, tuttavia i file generati hanno una struttura pseudobinaria, che bensì presenta a rappresentare informazioni crittografiche e a gestire le visioni successive del documento. Questa è una parte molto interessante che si può rivedere il documento stesso, lo vediamo più avanti questo. I file devono assumere le sue estensioni P7M, sono leggibili da maggior parte dei visualizzatori PDF, compreso Adobe Reader. Il formato consente di apporre tutto il tipo di firme, firme singole, firme parallele o congiunte, e tutti i firme poste anche dopo al documento stesso. La caratteristica, questa è interessante perché la firma Pades, tale caratteristica della busta Pades rende questo formato relativamente idoneo anche nel caso in cui si renda necessario apporre delle modifiche al documento dopo averlo sottoscritto. Ad esempio, per riportare delle notazioni, come i dati di estensione del protocollo che sono disponibili solo successivamente alla sottoscrizione del documento stesso. Se andiamo a vedere il documento, una prima analisi, tale documento potrebbe riportare delle anomalie, riporterà delle anomalie, ma se poi, e questo lo possiamo vedere nella figura 1, tuttavia la busta Pades è presente ed accessibile, anche la versione precedente, questa sarebbe la figura 2, la versione precedente del documento firmato, che pertanto conserva piena efficacia giuditica. Perciò non devono essere presi in esame effettivamente i messaggi che dà, mostra e ridere nel documento, questi messaggi qua, almeno una delle firme non è valida, il documento dopo la firma è stato modificato e danneggiato, basta guardare un po' lo storico, un po' le versioni precedenti per capire effettivamente il valore del documento. Infatti in questo caso comunque è possibile accedere la versione del documento correttamente sottoscritta. Quanto è riportato presso dalle regole tecniche del DPCM di cui faceva riferimento anche Andrea Spallacci prima del 2013, che poi fondamentalmente dovremmo anche rivedere. L'ultimo formato è il formato XADES, il formato XADES è un formato XADES, tutte le tipologie di firme, è destinato all'interno del sistema fondamentalmente per XML, è più un sistema automatizzato, per le firme automatiche in qualche modo, viene utilizzato principalmente per i documenti elettronici in ambo sanitario e finanziario, anche fatture elettroniche. Diciamo che i file prodotti hanno una struttura gerarchia, qua rappresentata fondamentalmente, con rappresentazioni alfanumeriche, i file devono essere assunti, devono assumere un'estensione XLM e sono leggibili dalla maggior parte dei parcel XLM. Andrei avanti dicendo fondamentalmente che il lato Agid noi abbiamo pubblicato sul nostro sito, sul sito dell'Agid, una pagina dedicata ai software di verifica. Questo perché? Per cercare di agevolare ovviamente l'utente a affidarsi fondamentalmente dei software che sono stati rilasciati dai vari prestatori di servizi fiduciari qualificati. Nella pagina Agid, tra i vari software di verifica, andrei a sottolineare l'importanza del DSS, che sarebbe un software di verifica e di apposizione di firma, che è stato messo a disposizione dalla Commissione Europea, il Digital Signal Service, questa è l'immagine fondamentalmente, permette di caricare un software, i software di verifica si possono sia utilizzarli direttamente come web app, sia scaricare e installare sul proprio desktop o dispositivo, quindi a questo un po' decidete voi insomma. E fondamentalmente il DSS ha la stessa possibilità di essere anche installato sul proprio desktop e permette appunto di apporre firme, verificare firme a livello europeo. Questo è interessante perché ovviamente i software di verifica, soprattutto quelli tipo Daik, ArubaSign o altri software di verifica a livello nazionale, fanno riferimento anche ad alcuni regolamenti che ha emanato Agid. Spesso e volentieri troviamo all'interno di questi software di verifica dei elementi di attenzione, ad esempio non rispetto al regolamento 147, mi sembra 2019-2020, cioè ci sono degli elementi di attenzione che vengono riportati all'interno degli regolamenti italiani, dei software di verifica rilasciati dai certificatori italiani. Il DSS è un software di verifica europeo, come tale ovviamente è asettico da qualsiasi tipo di regolamento che è stato emanato da un organismo di vigilanza a livello nazionale. Come dicevo qui da questo punto di vista, il DSS si può essere, la verifica del software nella verifica di un documento filmato può essere fatta tramite web app, caricando il documento. Una volta che è stato sottomesso il documento, qua è un esempio che ho riportato sulla destra, se effettivamente il software ti segnala che è tutto passato, tutto opposto, può segnalare come vedete un avviso giallo anche il software DSS, nello specifico qui è the authority info access is not present, però è un avviso e come tale deve essere considerato, perciò fondamentalmente non è bloccante, cioè la firma è valida a tutti gli effetti. È solo un avviso da prendere in considerazione il lato QTSP, eventualmente maggiormente o il lato titolare della firma, che non è presente un elemento che potrebbe essere presente e potrebbe essere comodo dal punto di vista del certificato stesso. Io ho concluso. Grazie, grazie Stefano, sei stato perfettamente nei tempi e ci hai fatto, sei riuscito a farci recuperare il tempo di prima, quindi possiamo procedere con le numerose, cioè con le risposte alle numerose domande che nel frattempo sono state poste in chat. Molto interessante il fatto che ad alcune domande abbiate risposto voi stessi i partecipanti, per cui si è creato una interazione tra i partecipanti su alcuni temi piuttosto sentiti evidentemente e da alcuni già risolti e questo è il bello di questi webinar e della comunità che in qualche modo si crea al momento delle comunità istantanee di pratica. Dunque, comincerai intanto a chiamare tutti i relatori ad attivare la webcam e a collegarsi in modo che possiate rispondere. Grazie Stefano, Andrea, Patrizia, collegatevi. Comincerei con Patrizia e con diciamole se si collega Allora Patrizia, facendo riferimento a quello che ho appena detto, cioè alle risposte, anche alle interazioni tra i partecipanti, una delle domande più sentite, come avrai visto anche tu, è quella sulla posizione della segnatura di protocollo sul documento digitale. Una domanda sentita, i partecipanti come avrai visto hanno risposto tra di loro, però due parole su questo, ti chiediamo due parole quasi definitive su questo annoso problema che continua a ripetersi nel tempo nei nostri webinar. Penso che il misunderstanding che sta proprio nella parola apposizione, che il testo unico della documentazione amministrativa indicava insieme all'altra parola che è associazione. L'apposizione ovviamente fa riferimento al documento tradizionale cartaceo, quando appunto si prendeva la etichetta adesiva e si apponeva sul documento con la segnatura di protocollo. Nel caso di documento informatico noi non possiamo apporre la segnatura di protocollo, ma va associata, cioè la segnatura di protocollo è un file XML che viaggia insieme al documento. Quindi di conseguenza l'operazione di apporre, cioè di far stampare sul documento l'assegnatura di protocollo provoca il fatto che il documento non è più integro, cioè si è rotta la firma. Ecco perché molti dei partecipanti ho visto che dicevano proprio questo, ossia che la verifica poi della firma dava un esito negativo. Quindi, e ho visto anche che ci sono, sono stati citati delle esperienze in cui vengono inviati sia il documento originale, quindi quello firmato accompagnato dalla segnatura di protocollo, ma che non riporta nel documento la stringa di protocollo, sia la quella che viene comunemente chiamata copia di cortesia e che è un escamotage per mantenere questa abitudine di poter vedere sul documento la stringa. Ma quella copia di cortesia appunto è una copia, quindi non è un documento originale, non ha nessun valore giuridico ed è giusto una commodity per coloro che vogliono forzatamente vedere questi dati evidenziati. Nel caso di trasmissione di documenti tra protocolli con modalità machine to machine, ossia tramite interoperabilità, ovviamente questo discorso non avrà più nessuna importanza perché è proprio il meccanismo di interoperabilità che consentirà la lettura in automatico della segnatura di protocollo e quindi l'interpretazione dei dati che sono utili per la trattazione del documento. Alessandra, se posso in merito, visto che c'era una domanda specifica su questo appunto sulle segnature di protocollo, volevo riprendere quanto detto correttamente dal collega Ianiello e aggiungere un particolare. Il formato di firma PADES, ovvero la firma PDF, ha una particolare funzione che è quella del versioning che consente di avere più versioni dello stesso PDF e questo consente agli applicativi di protocollo di apporre delle segnature di protocollo andando a modificare il documento firmato, che cosa succede a quel punto? Che il software Adobe verifica appunto che ci sono state delle modifiche al documento, ma quelle modifiche sono riportate su una versione successiva. Tramite il software di lettura dei PDF è possibile sempre risalire alla versione firmata originale dove possiamo verificare con successo la firma digitale apposta. Quindi ecco, volevo ritornare sul punto che comunque c'è anche un escamodage tecnico per verificare bene una firma qualificata, firma digitale apposta ad un PDF che poi è stato modificato per esempio appunto per la segnatura di protocollo. Possono essere alcuna cosa soltanto? Andrea, scusa, vedo adesso un intervento, scusami Stefano, soltanto questo intervento si lo permette ma se viene utilizzato un software di verifica automatico il file risulta non valido? credo che fosse riferito a quello che stavi dicendo tu se ho scorso bene il... Certo, bisogna poi vedere come è implementato il software di verifica ovviamente, tutto dipende, cioè qualsiasi domanda sulle firme la disposta potrebbe essere dipende. E dipende, certo hai ragione, infatti è questa la variegata complessità a cui mi riferivo all'inizio nell'introduzione al webinar. C'è anche i messi dei campi ad hoc nel documento PDF che non verrebbero firmati dal documento stesso, queste sono quelle clausole vestatorie per esempio, a volte viene fatto in questo modo, sono dei campi ad hoc che non vengono firmati, non vengono bloccati dalla firma stessa che possono essere aggiunti successivamente, a quel punto non sarebbe manco più necessario la versione del documento stesso del PDF, versionale del PDF. Comunque l'argomento è sempre più sentito perché continua ad arrivare, io purtroppo non mi posso soffermare ulteriormente su queste ulteriori precisazioni della chat, vorrei andare un attimo avanti a un altro argomento che è sempre in qualche modo, non so se Patrizia si è collegata ancora? Sì sì sì, ho solo problemi con la videocamera. Ok, le altre parti diciamo più amministrative della firma, viene comunque chiesto in molti casi la posizione appunto, forse già Stefano stava facendo cenno proprio a questo, della firma nel caso di Pades in diverse, in più punti di uno stesso documento. Quando ci sono le clausole vessatorie infatti, sì. Sarebbero sempre le clausole vessatorie se ha senso mettere più firme, quando se sono richieste più firme che cosa bisogna fare per procedere a porre più firme. Secondo me questa fa sempre parte dell'abitudine del documento tradizionale che purtroppo diciamo è proprio una forma mentale perché in realtà quando uno firma un documento, ma insomma ovviamente poi gli esperti sono Andrea e Stefano, non voglio invadere il loro campo, ma la firma blocca un documento, cioè lo sigilla, quindi che motivo c'è di andare a firmare delle singole parti. Questo ripeto è una cosa che viene appunto dall'abitudine del documento cartaceo dove chiaramente venivano firmate esplicitamente anche queste clausole particolari di un contratto, di quello che sia. Adesso come adesso con la firma digitale uno blinda il documento e quello è appunto proprio perché se ci fossero delle modifiche verrebbero immediatamente evidenziate, quindi secondo me la firma multipla non ha senso, però appunto penso che siano loro più titolati a rispondere. No, probabilmente più che senso o non senso io credo che si tratti a volte di far vedere che hai preso visione di un certo punto, di un come dire, appunto viene dal cartaceo, viene dalla tradizione, ma è come dire, tieni conto, attenzione ci sono queste clausole, fammi capire che le hai viste. Certo, certo, però insomma questo è il senso, certo, ovviamente sono d'accordo con te. La firma insomma è chiaro che deve avere letto tutto, insomma, si dà per scontato, no? Quindi, però insomma per carità, ripeto, non voglio invadere un campo che non è il mio. Ho capito, va bene, volete aggiungere qualcosa allora Andrea? Per le clausole vessatorie è necessaria la firma proprio graficamente posta sotto le clausole, ma semplicemente in questo contesto perché appunto le clausole vessatorie devono essere ben comprese e accettate dal sottoscrittore. Quindi a parte, sì, il documento, è vero, la firma del documento garantisce la paternità dell'intero contenuto, ma per le clausole vessatorie c'è necessità di una firma specifica DOC che grazie al formato PADES, quindi il documento PDF, possiamo apporre graficamente su più parti del documento. Questo non è possibile per esempio con il CADES. E quindi però non si può con, appunto, ecco, questo stavo aggiungendo, non si può col CADES e quindi bisogna specificare che l'unica firma possibile è il PADES in questi casi. Ecco, bisognerebbe comunicarlo, insomma. Sì, la via migliore sarebbe quella. Per finire, anche secondo me, comunque per finire la questione del protocollo e della posizione della segnatura e della copia di cortesia, immagino sia capitato a molti, però vorrego aggiungere che in molti casi vengono mandate entrambe, ma senza alcuna segnalazione. Quindi questo è un fatto magari di diffondere la conoscenza in merito, perché vengono inviate, magari sarebbe meglio indicare nel messaggio di comunicazione che si invia il documento originale e il protocollato e anche la copia di cortesia col documento, con la posizione del numero di protocollo. Questo bisognerebbe fare per rendere tutte le comunicazioni tra le amministrazioni più esplicite. Dunque, andiamo avanti con, per esempio, ci sono molte domande, vedo, sull'insieme del documento di identità, quale tipologia di firma è necessario associare un documento di identità, è necessario un documento di identità per accertare l'identità del firmatario. Aggiungo io, se è necessario, quando è necessario, così metto insieme un po' di domande su questo argomento. Stefano, se vuoi vado io, poi magari… Sì, è che può. Allora, come abbiamo visto dalle definizioni di firma elettronica avanzata e dai requisiti, in particolare anche dettati dal DPCM del 2013, che appunto va ad ampliare i requisiti previsti dal regolamento AIDAS. Il documento di identità è necessario tanto per la firma elettronica avanzata, perché permette l'identificazione certa del firmatario, che è uno dei requisiti della firma elettronica avanzata, ed è previsto anche per il rilascio della firma elettronica digitale, della firma elettronica qualificata o firma digitale. Quindi ecco, questi sono gli unici due casi in cui è richiesto il documento di identità. Uno ovviamente all'atto della firma solitamente, l'altro all'atto per la firma elettronica qualificata all'atto del rilascio. Infatti i certificatori oggi ci identificano prima del rilascio del certificato e degli strumenti, quindi per esempio della smart card o del token per la firma. Vabbè, credo che sia ottima questa risposta. In ogni caso vado avanti con un'altra domanda che può sembrare banale ma è piuttosto frequente. Dopo la firma, un file può essere rinominato? Succede qualcosa? Non succede nulla. Non succede nulla. Possiamo quindi rinominare tranquillamente il file. Assolutamente. Ovviamente se abbiamo l'estensione del file è un problema perché soprattutto in ambiente Windows potrebbero esserci problemi per l'apertura del file, però poi impostando la corretta estensione del file non ci sarà nessun problema, né con l'apertura né con la verifica della firma. Dunque, altre domande riguardano il controllo, la verifica della verifica. La verifica, come mai software di verifica diversi danno esiti diversi? In caso di esito negativo della verifica spesso non è facilmente comprensibile il motivo della non validità. Questo è un problema che conosciamo tutti quanti. Questione piuttosto spinosa. Appunto ci dicono non valido ma ancora non si riesce a capire il motivo per esempio della non validità. I software di verifica danno delle segnalazioni in giallo e in rosso. Quelle da prendere in considerazione per la verifica della firma sono quelli in rosso e non quelli in giallo. Quelli in giallo sono degli avvisi fondamentalmente. Sembrano ovviamente forti come avvisi ma sono esplicitamente avvisi. Inoltre, i software di verifica attualmente sono tutti software di verifica che non sono qualificati. Il regolamento EIDAS prevede anche un servizio della qualificazione per i software di verifica e controllo della firma. Verifica e apposizione della firma. Perciò l'Agida ha imposto a tutti i certificatori in ambito qualifica, cioè quando si qualificano per rilasciare servizi fiduciari qualificati, di presentare o un loro software di verifica di firma a di apposizione di verifica della firma o un software di un'altra GA fondamentalmente Certificazione Autorica. Effettivamente non è facilissimo interpretare, do ragione al collega, non è facilissimo interpretare a volte i software di verifica. Noi, almeno io, spingo molto per utilizzare il DSS, come dicevo nelle slide, perché fondamentalmente è un software di verifica che è rilasciato dalla Commissione Europea, nel browser del DSS sono presenti molte informazioni utili proprio per capire il tipo di errore. Perciò sarebbe molto comodo utilizzare quel tipo di software di verifica e di apposizione non so se Andrea ha altro da aggiungere. No, semplicemente diciamo che la differenza dei risultati diviene da problemi più che altro di natura tecnica. Quindi ci possono essere queste diversità di valutazione di una firma. È difficile trovare dei software che dicono che una firma è assolutamente non valida, mentre altri dicono che la firma è valida. Nella maggior parte dei casi troviamo dei software che ci danno degli alert e altri invece che non ce li danno. Suggerirei appunto di seguire il consiglio del collega Stefano di provare sempre con il validatore offerto dall'Unione Europea DSS. Altre domande piuttosto ripetute, scusate io devo selezionare che sono tantissime, però cerco anche di vedere quelle che vengono ripetute più spesso e c'è spesso questa, è possibile unire nel caso di due firme, una in Pades e controfirmare in Cades, una in Cades e controfirmare in Pades. Noi sconsigliamo l'utilizzo promiscuo delle firme, sempre e comunque. Poi la vedo complicata pure da… Promiscuo, si va sempre all'utilizzo promiscuo, firme ibride e firme promiscue. Sì, è sconsigliato, però certo stiamo parlando di cose che effettivamente accadono, cioè è chiaro che è sconsigliato, bisogna dire a tutti, questa è una questione di formazione, di imparare a formare adeguatamente i documenti, in un senso o nell'altro credo un pochetto siamo, credo che siamo ancora lontani da questo perché comunque nella realtà pervengono spesso i documenti ibridi con vari tipi di firme e ad esempio ecco un'altra domanda sulla verifica che è stata fatta era relativa al come faccio a verificare se una firma è appunto una FEA, un'avanzata oppure una qualificata, se è più semplice o come mi verrebbe da dire più complicata. Allora innanzitutto sì rispondo alla qualificata ce lo dice il software di verifica, l'avanzata come dicevo in Italia è utilizzabile in ambiti chiusi, io per esempio non posso dotarmi di una soluzione di firma avanzata e firmarci documenti che abbiano valore legale nei confronti di un qualunque terzo, è utilizzabile in ambiti chiusi, quindi io vado in banca, la banca mi fornisce lo strumento, il tablet per la firma e io appongo una firma con quel tablet sul contratto e quel documento ha valenza nei confronti della banca in un ambito chiuso, è possibile firmare soltanto quei documenti che riguardano il rapporto fra me sottoscrittore e la banca, quindi sostanzialmente non mi capita di dover valutare se una firma è un'avanzata, anche perché come dicevo per valutare se una firma è avanzata bisogna valutare l'intero processo di firma, per esempio ritorno all'esempio bancario, la banca prima mi identifica, mi fa vedere e mi mette a disposizione il documento che devo andare a firmare, mi dà questi strumenti per la firma grafometrica di solito e dopodiché mi mette a disposizione anche il documento che io ho firmato, questo rientra tutto nel processo e va a rispettare quei requisiti individuati dal titolo qui. Si conclude in qualche modo. Quindi ecco diciamo che sulla firma elettronica avanzata ce ne possiamo parlare per ore, ma diciamo ecco non in questi termini. Dunque siamo arrivati quasi in chiusura, quindi rivolgo un'ultima domanda a Patrizia, se sei sempre online Patrizia, vi è stato richiesto un approfondimento sulla mancata abrogazione della firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3,2 del decreto legge del 99 e del 39. In quali casi si utilizza oggi? No diciamo ce lo stiamo domandando da anni perché del decreto legge 39 e 93 che è stato completamente abrogato a parte questo articolo perché continua a esistere e quindi questa domanda io la rivolgerei proprio al nostro legislatore, perché viene prevista ancora una firma autografa a mezzo stampa? Ci sono molte amministrazioni che la usano, la usa IMS, la usa l'agenzia delle entrate e in realtà appunto sono degli usi assolutamente fuori da ogni contesto digitale, quindi non riconosciamo il perché venga utilizzata ulteriormente, non so se qualcuno ad aggiungere qualcosa che sa qualcosa di più tra Andrea e Stefano? No io l'ho notata più volte eppure io continuo a non capire il perché e non so se Andrea o Stefano possono aggiungere qualcosa, altrimenti visto che proprio siamo in chiusura faccio direttamente un'ultima domanda appunto un chiarimento su DocuSign che è un altro argomento che è oggetto di diverse domande dei nostri partecipanti. Vado direttamente sulla domanda DocuSign, magari su quella precedente ci riserviamo il tempo di valutare una corretta risposta. DocuSign vedo che è oggetto di diverse domande e noi anche di Agile riceviamo quasi quotidianamente domande relative a DocuSign. DocuSign è una piattaforma di gestione documentale che prevede tra le altre funzioni anche la firma elettronica dei documenti. Quindi che validità una firma DocuSign dipende, dipende perché DocuSign offre nella versione base per esempio la possibilità di apporre una firma elettronica semplice ma consente anche con delle versioni a pagamento la possibilità di apporre delle firme elettroniche avanzate secondo la normativa europea oppure anche delle firme elettroniche digitali tramite il certificato che mi rilascia il certificatore. Quindi firma con DocuSign va bene, dipende da che tipo di firma è stata apposta e questo comunque lo devo andare a verificare caso per caso. DocuSign è un certificatore qualificato in un paese dell'Europa, può rilasciare firme elettroniche qualificate come diceva Andrea giustamente sulla piattaforma è prevista la posizione della firma elettronica qualificata a pagamento ma è prevista. Io a questo punto sono le 11.30, mi spiace per le molte domande però speriamo di aver illustrato adeguatamente tutto l'argomento e di aver risposto a buona parte delle domande. e chiedo a Patrizia se vuole chiudere anche lei e salutare o a Stefano e a Andrea. Vi ringrazio tutti quanti per la partecipazione soprattutto i relatori e gli organizzatori del webinar. Avete dato un grande spessore a questo percorso e quindi ci dispiace che finisce però insomma ci ritorneremo presto. Saluto, a presto. Buona giornata a tutti. Saluto, a presto. Salute, salute, saluto a tutti. Grazie ancora.